E dopo l'arresto ai domiciliari è arrivata la sospensione. La prefettura di Reggio Calabria ha reso noto con un comunicato che, con provvedimento in data odierna, il prefetto Claudio San Martino ha dichiarato la sussistenza della causa di sospensione nei confronti di Rocco Scerrone, consigliere provinciale eletto nel turno ordinario del 15 e del 16 maggio 2011. Tale provvedimento ha adottato in esito alla comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria competente in quanto destinatario della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari. Prosegue il comunicato della prefettura e è stato inviato alla provincia di Reggio Calabria per la notifica all'organo che ha convalidato l'elezione. Al riguardo si evidenzia che la sospensione della carica di consigliere provinciale opera di diritto al verificarsi delle ipotesi previste dal citato articolo 11 del 2012. Come si ricorderà, il giovane consigliere provinciale è stato arrestato e messo ai domiciliari perché accusato di violenza sessuale e stalking nei confronti dell'ex fidanzata per mesi, amminacciato, malmenato e in un'occasione avrebbe anche violentato la sua ex ragazza, tanto da farle concretamente temere per la sua vita e quella dei suoi familiari. Il diretto interessato nei giorni scorsi, pur dai domiciliari, in un lungo post su Facebook aveva gridato la sua innocenza, soprattutto dall'accusa di violenza sessuale nei confronti della sua ragazza, annunciando che avrebbe chiarito presto e nelle sedi opportune la sua estraneità ai fatti. Adesso però deve fare i conti con questo nuovo provvedimento. Grazie a tutti.